di sicuro questo era uno spettacolo più bello di quello che sto cercando perché ci dovrebbe essere fabrizio che ha finito gli allestimenti perché entriamo nel mese di natale pur essendo il 30 di novembre dovrebbe essere qui vieni vieni fabri come va tutto a posto guarda che bello montate fabri una una fabri 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 non dovevi farle partire dal di lì dovevano partire tutte dal tetto lì c'è l'americana con le luci non si può montarle dal di lì non avevi capito da sopra sopra adesso prendi ai su e le smonti tutte e riparti da capo e le riattacchi da sopra ok adesso ti accompagno anche cos'è sta cosa è sta roba nella camicia c'è un'ameratura di sicurezza per ciao 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 abbiamo un grande onore stasera di avere a cena con noi tutto lo staff la direzione di mirabilandia niente dobbiamo chiedere un parere anche su sul teatro ringrazio l'invito la prima volta che vengo qui è molto bello si mangia anche bene fino adesso poi adesso devo provare il bello deve ancora venire se ci lanciamo il giubbine lo facciamo con l'illuminazione tutti gli accendini di baglia scesi quindi scelerari fuori proprio Cesena non smaltiamo più e esercija Buonasera, benvenuti al Teatro Verdi Questa sera in console abbiamo Mattias, alla voce Marco Pirat, abbiamo perso Fabrizio Fini ma adesso andiamo a sentire quali sono le domande di questa sera A dopo, Teatro Verdi Troppo, ma spesso è godoso Troppo In che cosa? Nel tanto o nel quanto? Niente Niente Perché l'accetto è sempre brutto, il difetto è sempre brutto Niente Perché? Non lo so Non lo so Come non lo sai? Perché è troppo, non va bene? Troppo 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 Perché dopo un po' stanca Troppo un po' stanca, in che cosa? Figa Figa, dai cazzo Figa troppo, diciamo In che cosa? È meglio abbondare, in tutto Troppo 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 Di tutto Quando hai troppo lo puoi buttare, quando hai niente non puoi buttare niente, quindi meglio troppo di niente Oh, ciò faccio Oh, 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 oh No, 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 no. No, 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 no.